Qualche settimana fa una televisione molto popolare in Georgia in seconda serata ha fatto vedere cinque minuti della nostra intervista e questo programma aveva il secondo posto dello share parlando in lingua televisiva quindi siamo così all'improvviso diventati anche popolari in Georgia anzi tanti tanti Duccio lo considerano un genere degli georgiani che qui ci sono presenti poi vi facciamo conoscere altri generi dei georgiani e quindi niente pandemia d'amore l'abbiamo tradotto in italiano voi ascoltate in georgiano e voi in italiano se mi ricordo le parole perché allora noi ci si scambia le lingue lei canta italiano e non c'è non c'ha problemi io canto georgiano e ce n'ho un po' di più però ci possiamo provare la mia visione è la mia visione che è una visione che è stata un po' di più Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Da un oscuro male Dio ci salva ancora Presto tra non molto giungerà l'avrura Noi siamo tutti figli della madre terra E la nostra casa per l'amor fraterno L'alba del mattino sogna il rumore Nello che ci salva nel mezzo amore Grazie 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 Grazie